Ciao a tutti, benvenuti in questo video dei pronostici di serie A e serie B e grazie, grazie perché continuate a giocare con me, a supportare questo tipo di contenuti vi ricordo si gioca gratis, non si giocano soldi quindi giocate con me, mi raccomando, fatemi sapere come siete andati altra volta e grazie a tutti quelli che giocano, anche a quelli delle coppe europee che siete un po' di meno e io quindi lodo voi che giocate entrambi sia a quel sito qui che a quella delle coppe Champions League, Europa League, Conference League dai non fate timidi, venite gratis anche lì, come sempre iscrivetevi al canale attivate la campanella, mettete un piacere, commentate, è tutto gratis grazie agli abbonati, grazie agli abbonati, grazie a tutti quanti se siete nuovi appunto presentatemi, ditemi perché squadra ti fate ho piacere di dialogare con voi nuovi, vecchi, tutti quanti quelli che ci sono dall'inizio lo sapete, avete un posto speciale nel mio cuore ma un po' tutta la community, che ormai non è community community cos'è mamma mia, sto maccheronico romagnolo inglese ormai lo sapete, vi voglio bene a tutti bolognesi, catanzaresi, atalantini romanisti, c'è anche romanisti giuventini purtroppo è pieno, non sto scherzando dai interisti, tutti quanti, grazie, grazie di serie B tutti, siete veramente tanti serie A siete un po' di meno ma vi voglio bene a tutti cresciamo ragazzi, cresciamo, non vi costa nulla io faccio le capriole veramente col lavoro, i turni, incastrare tutto lo faccio con molto piacere, mi diverto a parlare con voi, a volte lo sapete, faccio più fatica a rispondere ai commenti ma rispondo sempre a tutti, magari non rispondo subito, rispondo ore dopo, dipende a volte faccio i video, poi vado a lavorare eccetera eccetera quindi dai, giochiamo andiamo a vedere come siamo andate l'altra volta uno schifo, ma l'altra volta tutti i X in serie A, chi le avesse indovinate è veramente un fenomeno, c'è gente che con 2 euro ha vinto 30.000 euro, visto online ste bollette, che beati loro allora, succede ogni 70 anni una roba del genere, l'hanno detto in radio ieri andiamo a vedere serie B avevo detto Modena Catanzaro X2, è uscito il 2 quindi presa per chi ha detto hai la tosse perché fumi, no ragazzi, non ho mai fumato in vita mia, mai fumerò, quindi è proprio il rosghino che mi viene quando urlo con voi Cittadella Ascoli X X presa Sampdoria su Tirol 1, ahimè no, è uscito il 2 quindi sbagliata Cremonese Ternana 1, ahimè è uscito il 2 ma mi fa molto piacere perché la Ternana lo sapete essendo gemellata con l'Atalanta mi fa sempre piacere quando vince non me ne vogliono i Cremonese assolutamente ma in questo caso ti favo Ternana quindi sbagliata anche questa Comobari avevo detto 1 1, presa Pisa-Feralpi avevo detto gol gol, presa Parma-Spezia 1, 1, presa Cosenza-Palermo avevo detto 2 è uscito l'X sbagliata Lecco-Reggiana X2 è uscito l'1 sbagliata Venezia-Brescia avevo detto 1 X 1 6 su 10 dai la B stavolta l'abbiamo un po' ripresa poi vabbè ci sono le sorprese come la Samp la sorpresa come la Cremonese quelle erano difficili da prendere e soprattutto la Reggiana che perde con l'Ecco vabbè allora Serie A invece male 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 allora io ho scritto 4 su 10 perché considero comunque l'X della Roma preso perché all'ottantesimo il settantaseesimo era X poi giusto per no? ok Lazio-Serenità ne avevo detto 1 1 le Cempoli 1X 1 presa e siamo già 2 tranquilli mi fermo qui Bologna-Monza 1 X no Torino-Juve 2 X no questo proprio non l'avrei mai detto Sassuolo-Milan 2 X no anche questo non l'avrei mai detto Napoli-Frosenone 1 X no anche questo sbagliato Udinese-Roma X2 ripeto qui considero l'X vedremo come andrà a finire comunque almeno questa la considero presa Fiorentina-Genoa 1-X sbagliata Inter-Cagliari 1 qui sfido tutti X Atalanta-Verona 1-X X presa qui qui me l'ero giocata la doppia mi puzzava 4 su 10 ragazzi 4 su 10 prese poche 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 serie A come vi dico sempre giocate contro il gioco io se volete vincere appunto giocate l'opposto allora fatemi sapere come siete dati 1-X2 massimo 3 doppie oppure gol appunto 1-X2 oppure gol massimo 3 doppie andiamo è andato a giocare se lo vedete questo video appena esce che esce oggi deve uscire giovedì pre-Atalanta un po' prima quindi potete ancora giocare quelli di Europa League e Conference League se vi date una mossa c'è il video lo lascio qua nelle schede in descrizione alla fine eccetera andate a vederlo per dirmi come siete dati l'altra volta se tutte le volte dite eh mi scoccio cercare il commento fate lo screenshot l'ha detto qualcuno di voi non mi ricordo il nome se no ti giuro ti avrei citato lo screenshot di quello che avete pronosticato così la volta dopo ce l'avete lo andate a recuperare fate prima fare i conti ok è un metodo molto semplice bravo chi me l'ha detto complimenti grazie e fatelo appunto ragazzi dai ragazzi ragazze e tutti quanti andiamo allora si parte con la serie A questa volta perché il primo anticipo domani è Genoa-Lassio e io vedo un 2 ragazzi vedo un 2 secco dell'Alassio attenzione si 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 Tudor per me domani continuerà a fare 3 punti e Genoa-Lassio per me è un 2 Cagliari-Juventus eh allora il Cagliari da adesso ragazzi sta diventando ingiocabile eh io Cagliari-Juventus ragazzi mi gioco la doppia mi gioco l'1x attenzione attenzione penso sia una delle rare volte che non do la Juve vincente ma il Cagliari per me dopo Atalanta e aiutatemi e Inter vorrà fare il terzo colpaccio e provare quantomeno a prendere un punto col bianco-neri per me può succedere Empoli-Napoli per me è un'altra partita da pareggio questa è una pareggio la vedo x sì Verona-Dinese vedo meglio il Verona soprattutto galvanizzato dalla partita con noi eccetera quindi vedo un 1 poi Sassuolo-Lecce è un altro x secondo me stavolta sono difficili Torino-Frosinone per me è un 1 Salernitana Fiorentina 2 Monza-Atalanta Monza-Atalanta gol mi piace gol Roma-Bologna per me è un x2 ed è la mia seconda doppia e Milan-Inter per me è un x2 ed è la mia terza doppia ebbene sì ebbene sì me ne sono sparate qua giù le doppie allora qua ragazzi sta venendo il finimondo c'è un cielo nero fuori che sembra che veramente deve venire la tempesta questa è la quiete prima della tempesta della partita di stasera e di quello che sta là fuori allora mi raccomando stasera se vedete il video giovedì ovviamente venite a vedere appunto il post partita di Atalanta Liverpool mi si ferma anche la gola a parlare di questa partita mi raccomando venite a vederlo anche se lo vedete sabato e domenica non l'avete visto vi aspetto a vedere anche quel video lì vi ringrazio il recap di Serie A vi aspetterei un po' più numerosi eh siete bravi con la B ma con la andate periodi questa sedia oggi vabbè allora Palermo-Parma anticipo di domani sera spero di portarvi in post partita non vi prometto niente ci provo Palermo-Parma mi piace X mi piace un pari stavo per dire uno X magari mi tengo il bonus doppio per la fine comunque X Reggiana-Cosenza è un'altra partita che vedo un pari Ascoli-Modena è un'altra partita che vedo un pari ebbene sì stavolta inverto la Serie A di settimana scorsa Bari-Pisa è un'altra partita che vede un pari ah non sto scherzando infatti mi sto tenendo il bonus doppio per Palermo-Brescia perché lì potrei giocarmi qualcos'altro oltre l'X Brescia-Ternana indovinate un po'? no dai Brescia-Ternana per me è un 1 speriamo di no Feralpi-Salò como gol mi piace gol stavo per dire due ma mi gioco gol Catanzaro-Cremonese per me è un 1x prima doppia Lecco-Venezia per me è un 2 Spezia-Sandoria X2 seconda doppia e quindi il bonus me lo gioco su Palermo-Parma che mi gioco appunto l'X2 la terza doppia è la prima avevo detto X e mi gioco l'X2 e sul Tirol-Cittadella mi piace X anche qui ebbene sì stavolta vedo tanti pareggi in Serie B perché ci sono tante sfide equilibrate dove non riesco a vedere una favorita ok ragazzi farò una strage non ne beccherò una non finirà pareggio manco una mezza partita mi raccomando fatemi sapere come state l'altra volta guardate i video anche se non li avete visti gli altri giorni recuperateli c'è chi lo fa io vi ringrazio di cuore uno non può sempre avere tempo di guardarlo appena esce uno lo guarda quando vuole basta che lascia un like che è gratis un commentino che gioca con me che è gratis se si vuole abbonare un euro o meno 0,99 centesimi grazie di cuore se non lo fate mi capisco perché è un periodo di merda per tutti oggi ho speso più di 700 euro dal dentista non mi basta un anno di YouTube per pagarmi il dentista quindi ve lo dico così che non mi piace dire tanto non prendo una lì e voi pensate che noi YouTuber prendiamo quelli grossi con 500.000 iscritti sì quelli che ne hanno meno di 20-30.000 ragazzi fidatevi che lo fanno proprio perché si divertono e per passione perché dei soldi qui ce ne è pochi poi con le tasse dichiararli auguri ragazzi io scusate questa vena polemica ma in realtà l'ho detto con scherzo vi abbraccio davvero di cuore a tutti quanti speriamo stasera di rivederci festanti per gli atalantini per tutti quelli che ti feranno atalanta eccetera domani domani sì forse domani o sabato domani esce il video con l'ospite e domani sera spero di portarvi appunto Palermo Palermo non mi viene in mente con chi speriamo speriamo di portare tutte queste cose vi abbraccio davvero di cuore a tutti quanti giocate con me scrivete al canale se vi capisco fate quello che vi pare tanto anch'io io mi scrivo nei canali che mi va di farlo non quelli che lo dicono lo dicono mi scrivo ma non mi scrivo perché lo dicono quindi vi capisco fate quello che vi pare se vi iscrivete io sono contento perché voglio arrivare a 5000 entro la fine del campionato è un sogno non succederà ma se succede come stasera non succede ma se succede più probabile che succede stasera che appunto i 5000 entro giugno tiè speriamo lo sapete sono molto superstizioso ragazzi ciao 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 scusate ciao alla prossima